finalmente sta per iniziare la seconda stagione del secondo anno modesto contro l'afo siamo arrivati alla presentazione dell'auto tra poco sveleremo le scuderie di entrambi i piloti e naturalmente inizierà questa nuova avventura l'afo sei pronto sono carico sono prontissimo sono affamato e allora andiamo alla presentazione della scuderia di modesto modesto nella seconda stagione correrà per la stone martin invece l'afo nella sua seconda stagione correrà per la red bull la prima gara in bahrain si disputerà il 13 dicembre 2023 non perdetevi la gara a partire dalle 14 vi aspetto su modesto 87 ciao